Buonasera Presidente, ben ritrovato su Stadio Radio. Buonasera Emilio, buonasera a tutti voi. Tra l'altro mi sa che è la prima volta che ho l'occasione di parlare con il Presidente Mirarchi in radio, quindi sono anche un po' emozionato all'esordio. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, è diventato anche il mio di Presidente, perché da poco sono tesserato in una squadra amatoriale, quindi devo stare anche attento a quello che dico adesso. Credo di averlo strappato il tuo cartellino, Emilio. Ok, allora mi sento ancora più libero. Dunque, noi abbiamo deciso di far intervenire il Presidente Mirarchi, che ringraziamo per la disponibilità, principalmente per un motivo, poi magari riusciremo a parlare anche di questa finale di Coppa Italia, perché in settimana è scoppiato un caso, una categoria giovanile, in quel di Paola c'è stato uno scontro tra due genitori, c'è un video che circola in rete, un genitore che entra in campo e inizia a menarsi con un altro, scene che noi non vorremmo mai vedere, ed è giusto anche mettere un argine a quello che è successo, perché il CR Calabria si spende tantissimo, non solo in immagine, ma anche proprio a limitare questo tipo di episodi. Quindi volevamo fare qualche considerazione col Presidente Mirarchi su cosa ancora va fatto e anche dare atto che praticamente quasi tutti, tranne credo un ragazzo che poi forse era un congiunto del genitore che è andato ad aggredire, hanno dimostrato grande maturità. Sì, intanto immagini bruttissime che chiaramente danno molto fastidio e sono veramente brutte a vedersi. Quello che invece rimarcavi tu giustamente, che ci ha fatto tra virgolette piacere vedere, è che i ragazzi erano avviliti dinanzi a queste scene, non sono intervenuti perché probabilmente piccolini, ovviamente rispetto a una categoria giovanissimi, rispetto all'autore dell'atto di violenza, ma qualcuno è andato via, qualcun altro era con le mani nei capelli, cioè proprio a dimostrare che hanno assolutamente denigrato l'episodio e magari in altri tempi la cosa sarebbe andata diversamente. Quindi questo è un grande e importante segno di maturità. Io da questo episodio, comunque brutto, comunque fastidiosissimo, prenderei questo aspetto che è quello positivo della vicenda. Quello che mi dispiace è che è venuto meno non il calcio, perché lì il calcio ha dimostrato grande maturità nei suoi protagonisti, ma l'aspetto più importante, che è quello familiare, quello di un genitore che davanti al proprio figlio, indipendentemente dalle motivazioni, qualunque potessero essere, ha dato il peggiore degli esempi al proprio figlio. E lì è venuto meno la più importante agenzia educativa che abbiamo a disposizione, la famiglia. Tra le altre cose, a proposito di educazione, alla fine io penso che il valore dello sport serva prima ancora che per l'aspetto agonistico e tecnico proprio a dare la disciplina nella vita, lo spirito di sacrificio, il rigore, il rispetto delle regole. Ecco, allora sotto questo aspetto, molto spesso, anche oggi in cronaca qualcuno dice l'arbitro non mi è piaciuto, aumentare la qualità dei formatori, degli istruttori, quindi di chi fa crescere gli arbitri, degli allenatori, quanto conta e quanto la FIGC a livello nazionale e i vari comitati regionali investono sotto questo aspetto? Per carità, è chiaro che chiunque deve impegnarsi per dare il meglio di sé e lo si fa come? Attraverso sicuramente la formazione, attraverso le attenzioni che vengono date a tutti i protagonisti del nostro mondo, ma così come avviene per i calzatori che diventano bravi giocando, anche gli arbitri diventano bravi arbitrando. Quindi c'è necessità che questi ragazzi diriggano quanto più gare possibili per diventare dei bravi arbitri. È chiaro che nella categoria di promozione di eccellenza hanno ancora alle spalle un'esperienza che non gli consente di essere ai massimi livelli. Lo diventeranno, ci auguriamo strada facendo, così come i calciatori di seconda, terza categoria, di promozione, ci sono calciatori che hanno un'esperienza calcisticamente limitata, ovviamente non sono i calciatori di Serie A. Più giocano più diventano bravi, più arbitrono più diventano bravi, più allenano i nostri allenatori più diventano bravi. Nel mondo arbitrale questa necessità è amplificata dal fatto che sono ragazzi più giovani, perché c'è questa volontà da parte dei dirigenti nazionali del mondo arbitrale di far crescere arbitri giovani, di affrettare i loro tempi, e ovviamente c'è necessità da parte nostra di aiutarli in questa loro crescita per fargli fare le giuste esperienze. Chiudiamo con una battuta sulla prossima finale di Coppa Italia, l'evento più importante che riguarderà il Cielo Calabria da qui alla fine dell'anno solare. Questa sfida tra eccellenza e promozione, tra l'altro scene bellissime quelle da San Luca, con una comunità intera in estesi per un risultato, un traguardo probabilmente inaspettato. Allora, che finale si aspetta del presidente Mirarchi, ma soprattutto dove potrebbe essere questa finale? Perché tra le altre cose alcuni degli stadi grandi, come Vibbo, Catanzaro, pare non possono essere utilizzati per gli impegni delle squadre locali. Quindi come si sta muovendo il comitato sotto questo aspetto? Intanto è una finale inerita per certi versi, perché sicuramente il fatto di avere una squadra di promozione negli ultimi anni mi pare che è accaduta una volta sola. La cittanovese. Esatto, la cittanovese. Il fatto che sia San Luca, che assume un carattere valoriale importantissimo per la nostra terra, è comunque una finale inerita, perché anche il Corigliano mi pare non l'abbia mai giocata, una finale regionale di Coppa Italia. Quindi da questo punto di vista di temi ce ne stanno tantissimi. Quanto al campo di gioco, effettivamente è vero che i grandi stadi sono difficili da reperire, perché Vibbo non è pensabile per questioni legate alla Vibonese, Catanzaro idem, per restare ovviamente nelle zone centrali. Certo. Quindi siamo la messia purtroppo ai problemi che conosciamo. Speriamo che in qualche modo il commissario Prefettisi, con il quale ci siamo già sentiti, ci possa dare una mano per rimanere nei campi canonici, se no troveremo realtà comunque disponibili ad ospitare e degne per ospitare una finale regionale. Pazienza se dovremo leggermente spostare le distanze in una direzione o nell'altra, spostarci leggermente verso Reggio o un pochino più verso Cosenza, ma l'importante è trovare una struttura che ci dia ampia garanzia, anche se sono convinto che le due tifoserie, le due società, saranno come al solito degne di rappresentare la nostra regione in quello che è l'evento clou, la finale di Coppa Italia. Tra l'altro, e questo lo possiamo dire, sicuramente ad andare avanti poi sarà il Corigliano, perché è la squadra di eccellenza, ad andare avanti nella fase nazionale. Il presidente Mirarchi Tecnico pensa che il Corigliano effettivamente poi potrà invertire il trend che fino a oggi, negli ultimi anni almeno, ha visto le calabresi soffrire una volta sbarcate in Sicilia, perché in generale il primo turno è contro la siciliana. Credo che ne abbia la forza, la capacità e la voglia soprattutto di andare avanti in questa competizione. Il Corigliano lo sappiamo tutti, è stata costruita come realtà per ottenere risultati importanti. Da subito il presidente Nucaro ha detto che voleva puntare al titolo nazionale. Ovviamente a noi farebbe grande piacere, saremo al fianco del Corigliano nella speranza che questo titolo possa tornare in Calabria. Sicuramente per Corigliano, sicuramente per il presidente e il suo staff, per i calciatori, ma ritengo anche per me e per la Calabria intera sarebbe un orgoglio immenso poter portare qui una finale e perché no anche nazionale, ovviamente anche la Coppa nazionale. Bene Presidente, saremo tutti a tifare Corigliano. Grazie per questo intervento e a presto. Grazie a te Emilio e ci vedremo sui campi di calcio. Volentieri, magari alla finale, chi lo sa. Vedremo. Un abbraccio Presidente, grazie. Avremo occasione di vederci per gli auguri natalisi, di sentirci sicuramente. Assolutamente, o con me o con Antonio sicuramente. Con me o con Antonio sicuramente. Grazie per il cartellino strappato. Un saluto al Presidente. Mirarchi. Mirarchi.